Cari concittadini, buongiorno. Sono trascorsi cinque anni e qualche mese e il Sindaco è giunto alla fine del proprio mandato amministrativo. In questa occasione, proprio per la fine di questo mandato, quindi ho sentito il dovere di congiudarmi da voi, affidandovi alcune riflessioni e anche un resoconto giustamente dell'attività che ho svolto io con i miei assessori come consiglieri dall'ormai lontano giugno del 2016 fino a oggi. Inizierò e sono costretto ad iniziare parlando dell'ultimo periodo, purtroppo, di questo periodo di pandemia che dura da oltre 500 giorni e che certamente ormai è un fatto conclamato, ha segnato il nostro lavoro, i nostri affetti, la nostra vita privata, insomma tutta la comunità. In questi lunghi mesi di contrasto al Covid, vi ricorderete, io sono intervenuto molte volte così in video attraverso i social e ho cercato di portare nelle vostre case quei resoconti chiari e onesti sull'andamento della situazione, soprattutto anche in certi momenti trasmettendovi certe tranquillità su questa cosa così complessa, così pericolosa, ma anche dandovi, giusto in certi momenti, anche comunicandovi le assunzioni di decisioni fondamentali. È stato sicuramente un periodo di cui non possono rimanerci immagini felici, non sono stati momenti felici, soprattutto mi ricordo e ci dobbiamo ricordare quegli bruttissimi inizi del mese di marzo dell'anno scorso con le prime difficoltà e questi approcci un po' sperimentali di risposta alla pandemia, queste famiglie improvvisamente colpite da questo virus, una dura realtà di un virus che si è dimostrato indomabile e che sotto i nostri occhi ha spento anche vite che erano ancora possibili. Ci hanno portato molto sconforto, ma vi devo dire che non ci siamo mai rassegnati. Ricordo il mio pensiero non può che andare a quelle famiglie che hanno perso così all'improvviso i loro cari e a loro va la mia solidarietà ancora oggi, va il mio più affettuoso abbraccio, un ricordo veramente. Questa purtroppo, ripeto, 500 giorni è stata una parte importante del mio mandato, una parte che perdura e purtroppo ci spaventa ancora. Quindi vi chiedo di considerare questo mio appello che faccio, un appello che sulla linea di quelli che ho fatto negli altri momenti in cui sono apparso in video, come oggi, vi ho chiesto atteggiamenti giudiziosi, vi ho chiesto attenzione alle cose fondamentali rispetto degli altri attraverso l'uso della mascherina e l'uso della distanza. Vedete, questa è una guerra veramente una guerra sanitaria, planetaria, pericolosissima e oggi purtroppo si continuano ancora a contare le vittime di questa pandemia. Quindi comprenderete perché sono partito da qui, per riportare questo aspetto, perché è stato sicuramente l'aspetto più chiaro e più triste di questo periodo della mia gestione. Però non è neanche difficile comprendere come questo periodo pandemico abbia condizionato e ridotto l'attività amministrativa del Comune, in questa proprio nella fase realizzativa, nella fase conclusiva del mio mandato. I risultati però accolti dalla mia amministrazione ci sono stati, comunque sono stati numerosi e anche significativi. Quindi desidero, con questo mio intervento di oggi, nel salutarvi e anche portare alla vostra attenzione quelle che sono state le scelte strategiche che sono al monte di questo lavoro svolto e anche di questi risultati ottenuti. Non sono state scelte che hanno consentito di sostenere in questi nostri cinque anni un duro lavoro per rendere, un importante lavoro per rendere Seravezza, quindi la comunità di Seravezza più sicura e più protetta. Cinque anni al servizio vostro di una comunità attenta, fiduciosa, integra e anche esigente, giustamente esigente quando auspica di vedere sempre soddisfatte le proprie necessità, magari anche indipendentemente da tutto ciò che possa accadere. Ma questo è naturalmente essere al servizio dei cittadini. Vedete il sindaco è un amministratore ed è votato e scelto perché amministri. E cosa vuol dire? Vuol dire gestisca le risorse che la comunità metta a sua disposizione. Pochi o tanti che siano queste risorse sono frutte, sono legate alle potenzialità economico e patrimoniale delle famiglie, delle aziende, queste sono le risorse che entrano all'interno delle casse comunali. Bene, quindi amministrare vuol dire gestire queste risorse e se io dovessi essere giudicato, e qui ve lo dico con grande semplicità, dovessi essere giudicato io e la mia amministrazione per la gestione di questo tesoro che i cittadini e i contribuenti mi hanno affidato, e considerare oggi quale tipo di bilancio e quali numeri di questo bilancio e di queste risorse io oggi presento dopo 5 anni e un pezzettino, come ho detto, di questo bilancio nel quale ha influito tantissimo questa grave crisi finanziaria causata da pandemia, ma nonostante ciò ha a disposizione risorse disponibili, avanzi di gestione spendibili, finanziamenti pronti per interventi strategici. Bene, dovrei tranquillamente, come dicevo prima, dire che questo sindaco e la sua amministrazione sono certificabili con un ottimo voto, o al più con un meglio di così non si poteva fare. Cari concittadini, basta guardarsi attorno, basta avere un po' di voglia di vedere come vanno gli altri enti, altri comuni, anche a noi vicini in Toscana, ci soffrono molti, tantissimi, soffrono di grandi difficoltà finanziarie, di struttura, situazioni di rischio in cui non possono dare le certezze che il Comune di Ceravezza invece ha dato, non possono fare investimenti, non possono fare spesa corrente, dare servizi primari al sociale, alle scuole, alle manutenzioni. Ceravezza e la sua comunità, dopo cinque anni di fiducia che mi è stata affidata nel 2016, ricevono da questo sindaco uscente, naturalmente, un bilancio inviliabile che renderà la prossima compagina amministrativa facilitata e avvantaggiata. Non è cosa da poco, guardate, garantire l'efficace continuità dell'azione amministrativa durante un cambio e lasciare mezze e certezze per il futuro sono elementi essenziali del buon amministrare. Il futuro, bene, parliamo di futuro, questo è il mio orizzonte oggi. Intanto personalmente, ve lo devo confidare, non è difficile dire, io diffido di chi si propone oggi cercando di costruire la propria reputazione, andate a cercare le presunte mancanze, presunte mancanze di chi l'ha preceduto, di chi pensa di costruire un futuro denigrando il passato. Credo che si debba invece sempre e soltanto guardare avanti. Le mie scelte di oculatezza e di rigore sul bilancio sono state fondamentali per dare sostanza a un programma di governo che parlava di futuro quando sono entrato nel 2016 e che rassicurava i cittadini su temi fondamentali per la vita delle attuali e delle future generazioni. Ho parlato di prevenzione, protezione e sicurezza. Vedete, in questi anni ho garantito l'abituale livello dei servizi senza sacrificare le famiglie. Ho confermato e migliorato i forti investimenti di spesa corrente nel sociale, nella pubblica istruzione, nella protezione dei cittadini. Ho tagliato l'erba, sì è vero, una sola volta all'anno, lo dico facendoci una battuta su, anziché due o tre come avrei voluto e come sarebbe stato nel desiderio di molti di voi, ma io non ho tagliato assolutamente i servizi. Quindi ho investito anche e soprattutto nella prevenzione e sicurezza delle scuole, addirittura con intensità tale, tale perfino di attirarmi qualche critica veramente ingrata. È stata a mio avviso invece la migliore forma di protezione che abbia potuto offrire alla comunità seravezzina, a vantaggio della quale mi piace sottolineare ho avviato opere per milioni di euro, tutte già finanziate, alcune in fase di progetto, altre già appaltate in corso, appena concluse, qualche esempio, scuole, palestre, cimiteri, arredo urbano, manutenzione straordinaria e il palazzo comunale. Vi invito pertanto quindi a leggere il resoconto dei miei cinque anni di mandato e lo troverete nelle pagine che troverete pubblicate, troverete introduzioni specifiche, settore per settore in maniera che così vi renderete conto di quello che è stato da fare. Ma parliamo anche di quello che resta da fare. Mi viene facile, è una battuta, la dico, la dico. Bene, queste cose da fare e che sono in corso, io penso che il prossimo sindaco per almeno altri due anni dovrà tagliare i nasti, i nasti che sono frutto di questa attività, di questo mio mandato. È una battuta, la dico così, sorridendo, ma questa è esattamente la situazione che andremo a trovare. Le cose ormai riguardano quindi il prossimo mandato amministrativo, l'importante però è che i cittadini, ecco questo è importante, mantengano un occhio vigile su queste opere impostate e che assolutamente devono essere immaginate, essere portate a conclusione, così come il cavalcavia, con tutta la viabilità che ne consegue, come le scuole, le palestre e soprattutto le piazze e il centro di Querceta. Assicuratevi cittadini che questi finanziamenti già disponibili e sono già destinati a queste opere non vadano persi o non vadano distolti, consegnate la gestione della cosa pubblica a persone capaci e giudiziose, che abbiano la piena consapevolezza del compito al quale sono attese e che sappiano di dover operare con un assoluto e cristellino spirito di servizio. Questo è il mio sogno, la mia certezza per il futuro della meravigliosa comunità di Seravezza. Prima però del resoconto dei dati che vi leggerete, però sono doverosi i ringraziamenti, siamo arrivati in fondo, come dicevo, al mio mandato e quindi mi fa veramente piacere dover fare questi ringraziamenti che sono dovuti. Innanzitutto chiaramente ai colleghi con i quali ho lavorato, assessori e consiglieri della mia maggioranza, per l'apporto dato a questo ottimo risultato di gestione, ognuno ovviamente con le proprie competenze e facoltà. Un risultato che ci ripaga di questi durissimi cinque anni nei quali abbiamo lavorato, dando volentieri ascolto e consigli, evitando di dare troppo peso però alle critiche pretestuose e infondate e ce ne sono state, dovendo a volte anche ingoiare amarezze e quant'altro riempie tutte le ore del giorno dei corridoi e le stanze del nostro municipio, che tra l'altro tra pochi mesi tornerà rinnovato modernamente, all'avanguardia e classificato addirittura NZ, cioè ad elevata efficienza energetica e emissioni quasi zero, una primizia per questi palazzi che sono stati oggi, vengono così ristrutturati. Stanze però del nostro municipio, per quale non posso dimenticare che abbiamo colto anche molte soddisfazioni, validamente supportate dai funzionari e dai dipendenti dell'ente. Funzionari e dipendenti che sono stati fortemente rinnovati in questi anni negli organici attraverso severi concorsi, quindi di ottimo livello, naturalmente supportati anche dallo Stato del Sindaco, coordinato quest'ultimo, non posso non ricordarlo, dall'indimenticabile Paolo Costa. A conclusione, sento il dovere di ringraziare inoltre tutti i dirigenti, i funzionari e il personale dei vari enti partecipati, in particolare quelli detenuti al 100% dal Comune, cioè quelli nostri, ovvero la Fondazione Terre Milice e il Pio Istituto Campano. Auguro quindi al nuovo Sindaco e a tutta la comunità un buon lavoro, ma soprattutto, visti i tempi, naturalmente auguro una buona salute. Cari cittadini, un caro saluto dal Sindaco Riccardo Tarabella.